E' nota come sala del buon governo, della pace, dei nove, con riferimento agli splendidi affreschi che la città commissionò nel 1337 per il Palazzo Comunale ad Ambrogio Lorenzetti, il più alto interprete della scuola pittorica senese dopo la partenza per Avignone di Simone Martini. Ebbene, al contenuto allegorico di queste figurazioni, inerenti alle pratiche di giustizia ed accoglienza cittadine, si ispira l'idea di ospitalità dell'hotel Palazzo dei Priori. L'albergo è immerso in un angolo di verde all'ingresso di Siena, vicino a tutte le principali attrazioni turistiche, il complesso museale di Santa Maria della Scala, il Duomo, il Palazzo delle Papesse, l'Accademia Musicale della Chigiana, la Piazza del Campo con le celebri Fonte Gaia e Torre del Mancia. L'accoglienza è riservata ad un personale giovane e dinamico. Alla reception è possibile avere informazioni e consigli, nonché prenotare servizi aggiuntivi come una visita guidata ai musei, una degustazione nelle cantine del Chianti o un tour turistico. Le 75 camere dell'hotel uniscono semplicità e comfort, così da garantire la tranquillità necessaria sia per il riposo che per il lavoro. Ognuna delle stanze è dotata di aria condizionata, rete wifi e televisione satellitare. Oltre al servizio bar, ideale per un aperitivo o un cocktail, l'hotel dispone di un ottimo ristorante specializzato in cucina tradizionale toscana. Perfetta sintesi di chiarezza e qualità, il Best Western Hotel Palazzo dei Priori è la soluzione ideale per un soggiorno a Siena, il modo più agevole di scoprire una città splendida e antica. Perfetta sintesi di chiarezza in cucina tradizionale a Siena,